Amo, ti vedo sempre quando ti vedo pensierosi sono preoccupato No, non sono pensierosi, stavo riflettendo su una piaga sociale Una piaga sociale? Sì, oggi il mondo è saturno, una volta esistevano artisti ed erano originali Artisti nella fantasia, nel teatro, nel cinema, nel cabaret, ma anche nella pittura, nella scrittura Poi sono cominciati a farsi d'autore, cioè vediamo tanti dei Limon Ro di Andy Warhol Sono scopiazzati, vediamo tanti quadri di Picasso, dicono quadri astratti, ma sono scopiazzati Sono i famosi falsi d'autore, ma questa gente che copia i grandi artisti Che dove vorrebbero arrivare? Io non so, tu dove vuoi arrivare? Ragazzi, ci vuole fantasia nella cucina, ci vuole fantasia nel cabaret, ci vuole fantasia in un video Ci vuole tanta fantasia, ma andare a scopiazzare, scopiazzate Prendete Non l'involucro di quello che state vedendo Cioè cambiate padella, cambiate pasta Cambiate quantità Cambiate carbonara Cioè, ma non avete fantasia Cioè, ragazzi, i falsi d'autore I falsi d'autore, ragazzi, io non me lo comprerei mai Io mi vado a comprare Andy Warhol Sì, ma io a quest'ora, nove e mezza di sera, non ti posso riflettere su Andy Warhol Ma io rifletto sempre, ragazzi Vabbè, saluta, va, saluta Fantasia, genialità Genio Ragazzi, io quando fa così Ironia Non so a chi ha puntato Non so a chi si riferisce Non so niente Io non c'entro nulla Nella piaga sociale Certo Io non c'entro nulla Basta Io prendo le distanze da lui in questi attimi Certo Cioè, si tornava a fare i piatti a sto orario Certo Però lui ha avuto in quella sua pausa dei piatti Pensava Andy Warhol E farsi d'autore A chi copia No, vabbè A domani, va, a domani Che è meglio Buonanotte Certo Certo